Tirare a campare non basta, bisogna fare la differenza, così combatto per un mondo migliore. Per alcuni questo significa un cerotto, per altri un proiettile. Oggi lascio a voi la scelta. Ragazzi, questo è l'intro, questa non è altro che la lore espressa in poche parole di un grandissimo Overwatch, di un grandissimo eroe che andiamo a scoprire quest'oggi. Stiamo parlando di un support, stiamo parlando di un personaggio in grado di curare, praticamente a renderci inviolabili sul finire della nostra vita, ma soprattutto in grado di fare anche molti, molti, molti danni. Benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova guida di Overwatch, in cui andiamo a scoprire le strategie e la guida per utilizzare al meglio, da subito, Batiste. Io vi devo dire la verità. Questo è uno di quei personaggi che non mi piace tantissimo, ok? Ma essenzialmente Batiste è in grado di renderci immortali, è in grado di fare altissimi salti, è in grado di curare ed è in grado anche di aumentare, ok? La potenza dei nostri attacchi. E come si fa? Ma ragazzi, ovviamente con le abilità, ma soprattutto grazie al lanciagranate biotico. Allora, questa è una mitragliatrice a medio raggio, con un fuoco primario, amici, che spara tre colpi. Punto dolente e ovviamente dover ricaricare molto spesso, e questo perché abbiamo un caricatore di solamente 45 proiettili. Dall'altro verso, invece, abbiamo il fuoco secondario del lanciagranate, cioè la granata splash, che ovviamente, come capirete, è in grado di curare gli alleati per aria nel suo range di azioni. Più si è più recisi e più la cura, ovviamente, si focalizzerà sul personaggio preso di mira. A differenza del fuoco primario, può essere usata ripetutamente fino alla fine del caricatore. La situazione, poi, ragazzi, per Batiste, che è uno degli eroi, diciamo, più nuovi del roster di Overwatch, è che questa abilità è stata fortemente ritoccata, soprattutto la sua granata splash, amici, perché prima aveva un raggio d'azione davvero molto importante, certo, più tu eri vicino al centro della granata splash, più prendevi cura, e allo stesso tempo anche il lanciagranate biotico, con la sua mitragliatore e questo trittico di colpi, è stato notevolmente nerfato. Perché, amici? Beh, perché iniziavi ad avere un'arma che potevi fare sparare da una parte e poi sparare una granata splash dall'altra, sparare da una parte e poi granata splash dall'altra. Insomma, Batiste era davvero molto, molto forte. Adesso la situazione è molto più equilibrata. Ma essenzialmente, ve lo devo dire, il lanciagranate è l'arma su cui anche le vostre abilità devono poi fondarsi. Perché? Ma adesso lo scopriamo subito. Perché? Perché abbiamo la prima abilità, che si chiama campo di immortalità. Allora ragazzi, campo di immortalità, come capirete, vi rende immortali. Ma state ben attenti, non è che sotto quella famosa cupola voi potrete diventare immortali da qualsiasi colpo, assolutissimamente no. Ma bensì impedisce a tutti noi che siamo nell'aria di scendere sotto il 10% della nostra vita. Ebbene sì ragazzi, i colpi vi faranno danno fin quando non raggiungono appunto la soglia del 10%. E' un'abilità che oserei dire difficilissima da utilizzare nel momento giusto. Perché, come vi ho già detto, il campo di immortalità non funziona quando abbiamo una vita full. Ed essenzialmente non blocca i colpi che arrivano. Blocca semplicemente quei colpi che vengono inferti nel vostro corpo solamente se arrivate a quel fatidico 10%. Ragazzi, questa è un'abilità che sicuramente se siete in fin di vita, se i vostri compagni sono in fin di vita è utilissima come il pane. Ma ci sono tanti, tanti, tanti ma. Ma numero uno. La durata di questo campo è di circa 7 secondi. Cioè, non è tantissimo. Ok, non è neanche pochissimo espresso in tempi di Overwatch ma non è così tanto. Il punto è che per il cooldown ce ne vogliono agli circa 20. Il che, ovviamente, come capirete, deve essere utilizzato solamente in momenti ben selezionati. Se voi lo sprecate dovete aspettare 20 secondi. E in 20 secondi, ragazzi, in Overwatch succede di tutto. Succede un push dell'avversario, succedono tante altre cose. E inoltre, c'è un altro grande, grandissimo malus. E c'è che questo campo di mortalità, per innazzarsi, ha bisogno di una specie di dispositivo. E il dispositivo, ragazzi, si può colpire e si può distruggere. Vi è chiara l'idea, ok? Voi, essenzialmente, dovete anche stare attenti che i vostri nemici non ve lo facciano fuori. E immaginate che davanti a voi ci sia un overwatch davvero molto potente in termini di potenza di fuoco. Mi viene in mente tranquillamente un Bastion. E voi direte, perfetto, col campo di mortalità Bastion non mi tirerà giù. Sì, ma Bastion, ragazzi, vede quel lanternino sopra le vostre teste, gli spara e poi spara a voi. E state ben attenti, ragazzi, per cui di non utilizzare campo di mortalità pensando di essere completamente, totalmente immortali e immuni da tutto. Perché se farete questo errore, allora subito dopo morirete facile. Ok, e ora un'abilità che potrei dire easy, peasy, lemon, squeezy. Impulso rigenerativo. Un'abilità a dare all'interno tutti gli alleati e compresi noi stessi ragazzi che si trovano all'interno di impulso rigenerativo ovviamente riceveranno delle cure. Facile, semplice, davvero molto, 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 molto easy. L'abilità, ragazzi, ha un cooldown di circa 15 secondi. Riusciremo a curare le persone per all'incirca 3 secondi. L'area non è molto grande per cui bisogna abituarsi ad attivarla nel momento più opportuno e soprattutto quando siamo a stretto contatto con gli Overwatch, nostri alleati, per cui state ben attenti. E seconda, ragazzi, Hocio che impulso rigenerativo si cura, ok? Ma non ha una capacità di ricarica della cura come potrebbe avere emersi. Quindi la sua capacità rigenerativa non è così tanto alta. Certo, hai il fattore di poterne curare più per volta, ma non è il fattore della velocità di cura. Per cui Hocio ha come la utilizzate e soprattutto dovete cercare di utilizzarla in tandem con appunto il fuoco secondario del vostro lanciagranate biotico che vi ho spiegato all'inizio di questa guida. Ed ora, prima di arrivare all'ultimate, devo spiegarvi un'abilità passiva. Come forse avrete notato e come forse alcuni di voi avranno visto anche la lore di Battista, il nostro personaggio indossa un esoscheletro. E questo che cosa ci consente di fare? Ma ragazzi, se teniamo premuto la barra di salto riusciremo ad avere una carica e questa carica ovviamente ci farà fare un enorme salto in alto. Quando noi ragazzi saltiamo poi possiamo tranquillamente direzionarci dove più vogliamo. E ovviamente anche il salto è proporzionalmente alto in base a quanto abbiamo caricato questa abilità. A detta degli sviluppatori, ok, questa abilità è stata inclusa per permettere a Battista di poter... per potersi garantire una via di fuga, ok? Ma allo stesso tempo i pro player sono riusciti ad andare oltre. E cioè, ragazzi, con una visione dall'alto un obiettivo è più difficile da colpire. Per cui Battista ecco che lassù, in alto, mentre salta, non lo colpirete molto facilmente. e questa, ragazzi, è già di per sé una grande, importante facilizzazione. Seconda cosa, dall'altro, ragazzi, avrete uno sguardo chiaro di cosa succede. Per cui potrete poi decidere la strategia giusta per poter appunto poi attivare tutte le vostre abilità oppure tutte le strategie. Appunto anche comunicando alla squadra che cosa vedete. E dolces in fondo, sempre con questa abilità, ragazzi, voi comunque potrete sparare e potrete comunque lanciare le granate splash per appunto curare i vostri alleati oppure fare male ai nemici. Certo, colpire con l'arma di Battista non è facile. È più facile, ragazzi, curare. Per cui, lassù in alto, non siete colpiti. State più tranquilli. I nemici non riusciranno tanto facile a traghettarvi. Utilizzatela, come posso dire, spammandola in tranquillità. se poi giocate anche in team utilizzatela per scautare. Vedrete che all'improvviso il vostro Battista riuscirà a fare tre ruoli ben differenti e cioè curatore, attaccante e anche sinergista. Perché sì, ragazzi, come ultima abilità c'è un ultimate davvero molto molto facile, ok? Matrice di amplificazione. Una volta premuto il tasto dedicato alla ultimate, la matrice viene posta sul terreno e voi potrete decidere come attivarla nella posizione in cui attivarla. E questa matrice si trasformerà in un muro ben visibile da entrambe le squadre. E che cosa succederà in questo muro? Ragazzi, questo muro raddoppierà le statistiche delle abilità che ci passeranno per circa cinque secondi. E non parlo solo delle abilità vostre, parlo anche delle abilità dei nemici, ok? Quindi tutti i colpi all'improvviso sia vostri sia dei vostri alleati ecco che aumenteranno di danno le abilità dei vostri alleati aumenteranno di danno il tutto per cinque secondi. Ottimo perché come sapete in Overwatch ci sono alcuni punti di strettoio davvero molto importanti ed ecco che improvvisamente un personaggio che prima curava e poi sparava e poi scautava può anche diventare un enorme meraviglioso sinergista che può andare proprio a dare un buff importante alla vostra squadra. Le primissime combo ragazzi che sono state messe in atto dai pro player vedevano i mitragliatori dei potentissimi tanks oppure alcuni colpi di Widowmaker di Bastion o di McCree ok? Con soprattutto scarica di piombo messa lì questa matrice di amplificazione e poi ovviamente amici era fuoco alle polveri capirete che questi sono attacchi molto potenti dotati di tantissimi proiettili dotati di tantissime potenzialità di danno e che cosa c'è da dire ragazzi le strategie prevedevano appunto questo nostro Overwatch mettere questa matrice di amplificazione e si vincevano davvero molto facili alcuni fight anche se erano estremamente squilibrati ma se nella vostra squadra c'era questa combo eravate belliche a posto ovviamente ragazzi matrice di amplificazione poi è stata notevolmente ritoccata dagli sviluppatori il muro non è proprio un raddoppiamento duro e puro delle abilità funziona su alcune mentre altre no e poi è stata leggermente nerfata al ribasso e poi ragazzi anche il tempo prima è stato portato a 5 poi è stato portato a 4 insomma essenzialmente sono dati che dovete prendere come sempre vi invito con le pinze perché fino all'altro giorno era valido adesso non lo sono più ma essenzialmente ragazzi la combo è questa battista è diventato un grande sinergista battista aveva la possibilità di curarvi battista ha pure la possibilità amici di poter far danno con la sua arma ci sono altri consigli che vi devo dare ma ragazzi battista anche se le abilità che vi ho spiegato quest'oggi sembrano molto limpide e cristalline secondo me richiede una conoscenza ampia anzi ampissima delle abilità o dei momenti in cui utilizzarla avete visto di come alcune abilità come il campo di immortalità non sono estremamente utili e non possono essere sprecate avete visto di come impulso rigenerativo funziona ma non funziona così tanto velocemente per cui non potete utilizzarlo in momenti molto coincitati perché probabilmente non sarà molto di aiuto avete capito che lancia granate biotico non è dotato di grande caricatore ma è in grado ovviamente anche di fare di curare e anche di fare danno avete capito che gli stivali potenziati sono davvero molto utili ma ragazzi tra dire che sono molto utili e poi saper fare tutte le cose che vi ho messo in questo elenco è davvero molto difficile e per ultimo non per ultimo matrice di amplificazione sebbene sia una barriera che nessuno può distruggere per utilizzarla nel momento giusto richiede appunto un'analisi della battaglia di livello molto molto elevato le abilità sono semplici ma è per questo che il nostro personaggio è considerato tre stelle su tre di difficoltà non è facile utilizzarlo le abilità saranno anche semplicissime ma utilizzarlo al meglio da subito sarà praticamente impossibile ma credetemi se terrete a ben a mente alcuni pro e alcuni contro che vi ho elencato in questa guida allora con una cinquantina massimo settantina di ore questo personaggio riuscirete tranquillamente a masterarlo e riuscirete come vi ho già detto a ricoprire tre ruoli che nessun altro in Overwatch è in grado di adempiere per tutto il resto amici spero che la guida vi sia servita spero che la guida vi sia piaciuta e noi ci vediamo in un prossimo mega video ciao 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 ciao